Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. Già dalla giornata di lunedì 25 aprile la Lucchese è tornata al lavoro. Pagliuca non vuol perdere tempo e intende preparare nel migliore dei modi la gara del primo turno del playoff di domenica prossima, ore 17.30 al Barbetti di Gubbio, appunto contro la formazione Umbra. E contro gli Eugubini vedremo in campo la Lucchese Tipo, tanto stiamo vedendo le immagini della vittoria sulla Pistoiese. Lucchese Tipo, visto che Minale e Tumbarello hanno scontato la squalifica e Bacchini e Nannini sono stati risparmiati, erano in diffida contro la Pistoiese. Dunque schieramento piuttosto delineato, casomai da capire se Pagliuca vorrà partire subito con l'artiglieria pesante in attacco, ovvero se metterà Belloni trequartista alle spalle del tandem Nanni-Semprini, oppure se almeno inizialmente opterà per un atteggiamento più prudente, anche se, dobbiamo sottolineare, la Lucchese deve vincere al novantesimo perché altrimenti va avanti il Gubbio. La prevendita dei biglietti intanto è attiva dal pomeriggio di martedì 26 aprile sul circuito Viva Ticket. Prezzo del biglietto di curva allo Stadio Barbetti sarà di 10 euro. La Lucchese femminile torna al successo grazie ad una doppietta di Benedetta Fenili. Vincere non era importante, era l'unica cosa che contava e la Lucchese femminile lo ha fatto con una prova di carattere. Giornata grigia e di pioggia al Porta Elisa, le rossonere nell'occasione maglia bianca ospitano un Perugia ringalluzzito e con l'obiettivo play-out che invece vogliono evitare le ragazze di Priscilla del Prete. Ma l'abbrivio è di marca Umbra, all'undecimo cross dalla sinistra di Ghiadosca, sprecato però malamente dalla Menzo. Fa fatica la Lucchese che cerca di agire di rimessa ma solo la fortuna salva Moni e compagni al tredicesimo. Tiro di Franciosa dai 35 metri che colpisce la parte inferiore della traversa. Il pallone torna in campo ma anche stavolta la Menzo non è reattiva. In questa fase iniziale, più in generale, si esalta il portiere rossonero Chiara Repetti. Le qualità le abbiamo, l'unico problema è che noi all'inizio facciamo fatica, facciamo molta fatica, però poi alla fine è andata la grande, le qualità delle ragazze si sono viste, sono venute fuori e penso che si sia portata a casa una buona partita. Spaventate dal doppio pericolo corso, le padrone di casa si scuotono. Magnificazione con lancio di campani per Tata, appoggio per la del Prete che pennella da par suo un cross al bacio sulla testa di Fenili che fa centro per il punto del vantaggio. Benedetta di nome di fatto, corre poi sotto la tribuna e dedica il gol con tanto di maglia numero 88 alla sfortunata Fabbroni, rottura del menisco e stagione finita. Ora la partita cambia e la Lucchese assume il comando delle operazioni. Fenili colpisce un palo e poi Cerasa si oppone alla disperata al tentativo della Bengasi. Sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne segue arriva il raddoppio con la Fenili che va a segno ancora di testa. Si va a riposo sul confortante punteggio di 2-0. Doppio vantaggio che nella ripresa le rossonere gestiscono senza correre troppi rischi. Solo nel primo quarto d'ora il Perugia si fa vivo ma la Repetti si conferma attenta e reattiva spegnendo le residue e velletà delle ospiti. Poi nel finale Tata si divora il gol del 3-0 ma va bene anche così. Una vittoria e tre punti che costituiscono una bella boccata ad ossigeno a sei giornate dalla fine quindi con un cammino ancora lungo da affrontare. Domenica prossima trasferta a Bergamo sul campo della temibile Eurobica con la voglia di vendicare la sconfitta patita nel match di andata giocato a Marlia. Poi il calendario diventerà amico. Due gare casalinghe consecutive 8 e 15 maggio contro Caprere e Pistoiese. Una ghiotta chance di fare bottino pieno e tirarsi fuori o perlomeno provarci dalle pastoie e dalle ambasce della bassa classifica. Inizia a mercoledì alle 17 l'avventura del tau calcio al Topascio nel gironcino playoff per la Serie D. La formazione di Pietro Cristiani gioca la sua prima partita in trasferta sul campo del figline Valdarno, reduce dall'impresa di aver vinto 3-2 a Livorno al termine di una partita a dir poco romanzesca. Evidente che gli amaranto troveranno sulla loro strada un figline galvanizzato ma il tau ha dato ampia dimostrazione nel corso di questa stagione di avere risorse tali da potersela giocare contro chiunque. Saranno 4 giorni di fuoco per Borgia e compagni visto che dopo la trasferta in Valdarno domenica prossima 1 maggio al Porta Elisa arriverà un Livorno ferito e proprio per questo ancora più pericoloso. Motori trasferta tricolore di grande soddisfazione per NDM Tecno Massarosa al 55esimo rally dell'Elba prima prova del campionato italiano rally asfalto. Gli iconici asfalti dell'isola napoleonica, la più grande delle perle dell'arcipelago toscano hanno infatti esaltato Giovanni Lanzalaco e Antonio Marchica su Renault Clio Rally 5 che hanno vinto in sicurezza la prima prova del Renault Clio Trophy. Passiamo all'atletica con la prima prova del campionato di società e 10.000 metri in pista che si sono svolti al campo Moreno Martini di Lucca. Si sono corsi al Moreno Martini di Lucca i campionati regionali dei 10.000 metri assoluti in master su pista validi come prima prova del campionato di società nazionale a squadra 2022. Il team Garfagnino del gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Eco Verde ha schierato al Viesio Atleti Assoluti i quali sotto un autentico nubifragio che si è abbattuto sul Lucca durante la gara elite maschile hanno comunque onorato al meglio la prova. L'asso che notta Paul Thiongic ha chiuso in 30 e 26 al secondo posto alle spalle di Manuel Micungo Atletica Castello dominatore in 29 e 45 unico capace di scendere sotto i 30 minuti. Lo squadrone bianco verde è inoltre piazzato sul podio anche Alessandro Brancato che ha chiuso in 30 e 48 e si è laureato campione toscano assoluto di 10.000 metri. Da registrare anche gli ottimi piazzamenti del siciliano Ivan Antibo quinto in 31 e 10 e campione toscano promesso in 2022 ma ancora Vincenzo Agnello VI, Filippo Micheli VII e Emanuele Fadda VIII a degemonizzare la top 10. Inoltre Matteo Coturri ha chiuso al ventesimo posto e Nicolò Bandini al venticinquesimo sui 38 atleti giunti al traguardo. Un risultato che poi alla luce di quanto giunto dalle altre sedi dei campionati di società evidenzia il gruppo podistico Alpi Apuane del presidente Graziano Poli al terzo posto assoluto a livello nazionale in quella che era forse anche la prova meno favorevole ai colori bianco-verdi rispetto ai 10.000 su strada e alla mezza maratona che si correranno in autunno. Tutto ciò alimenta morale e convinzione anche in vista dei campionati italiani assoluti di 10.000 in programma domenica prossima e che vedranno al via con possibilità di ben figurare Francesco Guerra e Omar Bouamé. Gli atleti Garfagnini si confermano al top nel tiro alla forma a Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Roberto Lazzurri e l'inossidabile Piero Pennacchi, detto il pianacci, hanno vinto infatti il titolo italiano nella categoria dei 9 kg con una prova di assoluta classe. A confermare la bontà della scuola garfagnina, il terzo posto nei 25 kg di Rino Suffredini e Michele Bandini ed altri buoni piazzamenti a suggellare la bella giornata marchigiana. Bene, con questo è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Un'altra breve pausa e poi la terza ed ultima parte.